Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, continua la nostra rubrica sui giocatori che hanno flopato all'Inter e oggi vi parlerò di un giocatore che ha deluso questa città. Milano, regia, fammi vedere questa panoramica stupenda su Milano. Laggiù c'è il Castello Sforzesco, questo giocatore ha deluso anche il Castello Sforzesco. Questo giocatore che in Germania aveva fatto valanghi di gol, anche in Inghilterra con la maglia dell'Arsenal si era comportato bene. Per di più, per di più, campione del mondo con la sua Germania nei mondiali del Brasile nel 2014, arriva all'Inter. A gennaio 2015 l'Inter allenata da Roberto Mancini che l'aveva voluto fortemente e floppa. floppa clamorosamente segnando un gol, un gol, collezionando 16 presenze e un gol. Cioè praticamente io mi ricordo quando era arrivato Podoski che fu comprato all'epoca insieme a Shakiri, anche lui durato all'Inter come un gatto in tangenziale. quando si presentò all'aeroporto qui a Milano osannato, acclamato, accolto, applaudito veramente da un'orda di tifosi festanti che insomma sui fasti dei Panzer dell'Inter di Trapattoni vedevano un altro tedesco all'Inter e sognavano. E lui purtroppo li ha delusi, mi ha deluso clamorosamente. Dico la verità, anche io ero molto contento del suo arrivo, ci avevo creduto. Come si dice in questi casi, ci avevo creduto ma lui ce l'ha messo a tutti quanti in quel posto. Conclusa la sua parentesi all'Inter, disse, è stata un'esperienza orribile la mia all'Inter. Diciamo che è una cosa reciproca, lui non si è trovato bene da noi e noi non è che ci siamo trovati bene con lui. Poi dopo è andato al Galatasaray, devo dire la verità, il Galatasaray non ha fatto male perché comunque fosse in un campionato meno impegnativo di quello italiano. Insomma, essendo già un giocatore che andava un pochettino in l'Anche con gli anni, non era più il fiore degli anni, è riuscito a comportarsi bene in Turchia. Però purtroppo il buon Luca Spodoschi in Italia ha lasciato ricordi amari, di dolce poco o nulla. Seguiteci nei prossimi video, mi raccomando, ciao!